I problemi della nostra terra e i nostri problemi anche personali risultano da un problema di consapevolezza e cioè siamo troppo in superficie con la nostra consapevolezza, un po' troppo grossolani, troppo esteriorizzati, esiste per noi solo la materia e avendo come punto di riferimento la materia, è come una calamita che ci attira con tutti i suoi colori e diventa una vita molto mondana, molto superficiale, molto egoico e lo yoga è proprio l'arte di per sé, si può dire, per portare te, ricercatore yogi, dalla superficie della tua percezione, dalla consapevolezza tanto superficiale verso strati sempre più profondi. Gli yogi nell'antichità hanno insegnato che tutto il mondo e tu incluso esiste come fatto da vari strati e tu puoi andare verso l'interno con la consapevolezza e questo va allenato, non succede automaticamente per questo, ti serve una pratica corretta tutti i giorni per allenarti ad aprire tipo le antenne, si può dire così, della tua percezione, del tuo sentire, della tua consapevolezza.